via però, come sempre tecniche di armo avanzate allora, si pulisce lo spit con questo stuppaglio fatto a misura poi, se vedete che c'è ancora del materiale dentro, per ammorbidirlo basta sputare dentro girare un pochino e poi soffiare con forza adesso prendiamo una piastrina che prima non voleva entrare piano piano adesso vedete che gira perfetto anche se non è vero, vecchia